C'è giunta segnalazione riguardante il verde sulla camminata dell'usenzo all'isola dell'Unione. Il verde pubblico è un tema che ultimamente vediamo molto attenzionato da parte dei cittadini chioggiotti. La sensibilizzazione che si sta facendo a vari livelli sull'importanza del verde sta probabilmente ottenendo un riscontro. Si sta capendo l'importanza degli alberi sotto molteplici aspetti e della loro chioma per l'assorbimento della CO2, per l'ombra crecrea, per il raffrescamento che deriva dalla sua presenza. Gli alberi del territorio devono essere vivi per poterci regalare tutto ciò e non morti. Un albero morto non porta alcun beneficio ma può costituire un pericolo. Un colpo di vento più forte può spezzarlo, sradicarlo con conseguenze che possono essere tragiche se in quel momento sta passando una persona. Ci hanno chiamato per vedere la moria di alberi sulla bella passeggiata dell'usenzo ed effettivamente molti tra gli alberi che abbiamo visto sembrano essere morti, totalmente secchi. Non siamo in grado di dire se effettivamente siano morti, moribondi, in uno stato letargico o cosa. Possiamo solo raccontare quello che vediamo. Gli alberi lungo la passeggiata sono attorniati da rigogliose siepi, probabilmente un'eventuale caduta di un albero morto potrebbe essere rallentata, ma tra gli altri alberi, quelli che si trovano sul parcheggio, ce ne sono alcuni che però si affacciano sugli stalli dove le vetture parcheggiano. Il loro aspetto non è rassicurante, la loro chioma non presenta foglie. Sappiamo che gli uffici sono attenti alle varie situazioni e agiscono nel caso in cui ci sia effettiva necessità di agire. Probabilmente se su tali alberi non sono ancora stati eseguiti interventi significa che non ce n'è necessità, ma vorremmo che i cittadini che ci hanno chiamato allarmati vengano informati sullo stato di questo verde pubblico. Non sembra che i giardinieri addetti a quest'area di verde pubblico siano passati da tanto, le siepi sono regolari, siamo certi che se avessero notato situazioni pericolose ne avrebbero dato comunicazione. Al verde pubblico sono stati tolti importanti fondi, soprattutto considerando la vastità del territorio clodiense che necessita di ordine e cura con alta periodicità. Le conseguenze dei tagli è dover rimandare alcuni interventi e dare la priorità a quelli più urgenti. Con quest'ottica molto è destinato ad essere posticipato. Al prossimo episodio